Ben ritrovati amici di Pokerstar News con una nuova pillola di basket che dedichiamo oggi all'Open Job Metis Varese perché la squadra di coach Bielaseschi ha vinto mercoledì scorso la prima semifinale di andata, ci sarà ovviamente una gara di ritorno, di Europe Cup. Europe Cup che è quella che possiamo considerare, senza che la consideriamo noi ma è oggettivamente così, la quarta competizione per club a livello europeo, quindi se dovessimo fare una classifica c'è Eurolega, Eurocup, Champions League e Europe Cup, una competizione alla quale le nostre squadre italiane sono molto legate perché nata nel 2015-16 ben in due occasioni l'hanno vinto le formazioni italiane, Venezia e Sassari. Varese ci sta provando e nonostante un andamento che noi conosciamo bene in campionato non sia dei migliori, anche rispetto alla passata stagione in cui la squadra andava benissimo, poi c'è stata la squalifica quindi è cambiata di punto in bianco la stagione di Varese ma l'anno scorso era una delle squadre più belle da vedere, quest'anno sicuramente molta più fatica e ora sta lottando per non retrocedere, al momento sarebbe salva. Però quello che sta facendo in Europa è tantissima roba perché ha vinto la semifinale di andata contro i turchi del Bacisheir e avrà la seconda semifinale la prossima settimana, quindi questo per dire che non si parla tanto di Varese nei confini nazionali proprio per l'andamento non esaltante in campionato ma è giusto parlare di quello che sta facendo in Europa perché settimana prossima potrebbe guadagnarsi il pass per la finalissima di Eurocup e poi chi lo sa come potrebbe finire.